Lui forse non lo sarà mai, ma tu sei pronta per la prova costumi. È facile raggiungere la linea ideale in tempo per l'estate. Basta mangiare Kellogg's Special K per due settimane a colazione e al posto del pranzo o della cena. Kellogg's Special K, speciali per la tua linea.